Cosa è una cisti odontogena? Una cisti odontogena è una sacca legata alla membrana che può essere vuota o riempita con una sostanza o un fluido viscoso. La membrana di questo tipo di cisti proviene dalle cellule epiteliali che producono i denti. Ci sono circa sei diversi tipi di queste cisti. La nomenclatura e la descrizione dei diversi tipi di cisti odontogene possono essere molto variabili. La maggior parte di queste cisti viene trattata mediante rimozione chirurgica. Il tipo più comune di cisti odontogena è la cisti periapicale o radicolare. Questo tipo di cisti si forma quando il contenuto di un dente morto in decomposizione perde nel tessuto e la base del dente. Il tessuto infiammato stimola la crescita delle cellule epiteliali e embrionali residue e alla fine porta alla formazione di una cisti. Rimozione del dente morto di solito provoca il riassorbimento delle cisti periapicali, ma quando questo non si verifica la cisti deve essere rimosso chirurgicamente e rivisto patologicamente. Le cisti dentigerose sono il secondo tipo più comune di cisti odontogene. Queste cisti si sviluppano all'interno della cavità di un dente che non è riuscito a ruttare dalla gomma. Un tipo molto simile di cisti è il tumore odontogeno della keratocista, noto anche come cisti primordiale, che si forma quando il tessuto all'interno di un follicolo del dente non si sviluppa in un dente e invece produce una cisti. Quando una cista si forma vicino alla base di un molare che è esplosa solo parzialmente dalla gomma, è chiamata cisti paradentale. Le cisti di Gorlin, chiamate anche calcificazioni delle cisti odontogene, si formano tipicamente nella parte anteriore della mandibola e sono spesso associate a un dente colpito. Una cisti odontogene ghiendolare è una cisti estremamente isolata che si trova nella mascella inferiore. Tutti questi tipi di cisti vengono solitamente scoperti durante la revisione radiologica annuale dei denti presso l'ufficio del dentista. Possono anche essere scoperti quando il dentista ha esplorato la ragione per un dente non ottimizzato. Occasionalmente, una cisti odontogena produce un lieve dolore o disagio che porterà un paziente a vedere il suo dentista. Il trattamento tipico per questi tipi di cisti è quello di osservare la crescita della cisti per essere certi di non spostare i denti circostanti. Se la dimensione della cisti minaccia la salute della bocca, la cisti deve essere rimossa chirurgicamente e deve essere eseguita una patologia sul tessuto solo per essere certi che la diagnosi sia corretta. Quando si asporta la cisti, è importante che tutto il tessuto cistico sia rimosso in modo che la cisti non ricresca. Le note attente della posizione esatta della cisti devono essere conservate nel registro del paziente in modo che l'area possa essere rivista periodicamente per rilevare eventuali segni di crescita della cisti.